amici bentornati sul canale 9000 giri lavorazioni autosportive siamo come al solito in officina quando noi assegrate abbiamo questa macchina ospite per una serie di lavori siamo a metà dell'opera o due terzi adesso poi oggi la dobbiamo consegnare e poi vi raccontiamo cosa a gennaio andremo a completare dunque intanto la macchina la vedete una mini f56 col motore john cooper works da 231 cavalli nuovissima per questa macchina qui il cliente ce l'ha portata per la prima serie di lavori due giorni dopo che l'avrà ritirata dal concessionario quindi proprio nuova di pacca abbiamo iniziato con la parte meccanica quindi nei primi lavori che abbiamo fatto sono direi di partire dallo scarico questa parte dello scarico è stata sostituita con uno scarico sportivo omologato comandato dalla relativa valvola con le due uscite nere da 102 da 102 perdon quindi impianto della ragazzon qui c'è l'omologazione dello scarico e qui c'è il motorino di apertura e chiusura della valvola ok queste sono le uscite carbon da 102 tagliate a fetta di salami in maniera tale che seguono l'andamento del del sottoparotti dietro e la parte che è stata sostituita arriva fino a questo punto qua quindi non abbiamo sostituito niente altro che la parte centrale terminale sound è migliorato diciamo che la mini una delle caratteristiche della mini è quella di avere una contropressione studiata proprio appositamente per avere questi scoppietti in rilascio con la valvola aperta abbiamo aumentato questo tipo di caratteristica quindi la macchina rimane sempre dentro nei 74 decibel perché sennò chiaramente non poteva essere omologata però ha un sound leggermente più pieno più sportivo e poi il discorso di scoppietti sicuramente va a enfatizzare quella che è una delle caratteristiche di queste di queste vetture ok quindi la parte dello scarico l'abbiamo descritta poi siamo passati al discorso massa non sospese quindi il gruppo ruota e freni e qui praticamente abbiamo cambiato quasi tutto quindi abbiamo partiamo dal discorso cerchi abbiamo sostituito con questi cerchi direi veramente molto molto belli questi sono del super turismo lm evoluzione dello z racing cerchi direi molto particolari costosi ma molto particolari la misura appunto 18 pollici oltretutto il cliente quando ce l'ha portata aveva le gomme estive quindi gli abbiamo anche procurato le gomme invernali quindi mi ha preso queste gomme invernali con la misura come riportata dal libretto 205 40 18 e questo per quanto riguarda il discorso della massa non sospesa dei cerchi poi sul discorso impianto frenante non abbiamo toccato la pinza perché come si vede c'è la pinza veramente molto molto generosa arriva proprio abbastanza fino non sarebbe stato logico c'è il kit maggiorato però onestamente l'abbiamo sconsigliato al cliente perché per andare a recuperare un centimetro anzi due centimetri di diametro un centimetro per parte il gioco non vale alla candela nel senso che già un impianto abbondantemente dimensionato si vede appunto dalla dimensione della pinza quello che abbiamo fatto è sostituire i materiali frenanti cioè il materiale di attrito per cui abbiamo sostituito i dischi utilizzando solito discorso dei dischi della ibc puntati e baffati ai quali abbiamo copiato le pastiglie gialle si intravede qui il giallo delle delle pastiglie in maniera tale da avere una gradazione termica perfetta fra appunti materiali che combaciano fra loro quindi fra disco e pastiglia all'aumentare della temperatura il disco è temperato per sopportare una calore molto maggiore e ovviamente in questo caso la frenata si accorcia lo stesso discorso sul posteriore quindi qua si vede un meglio la parte della pastiglia gialla sempre il solito discorso del dei dischi che ovviamente sono più piccoli di dietro perché c'è un ripartitore di frenata quindi generalmente la ripartizione della frenata è un 70 davanti e un 25 30 per cento posteriore e come ultima cosa il cliente ci ha chiesto di cambiare anche le tubazioni dei freni che le vediamo forse meglio qua ecco in questo punto anche se non c'è tantissima luce questa è la tubazione del freno che prima era in gomma ecco qua si vede meglio prima in gomma adesso è gomma per proteggere la tubazione del tubo però la parte diciamo l'anima è fatta in maglia d'acciaio quindi con questo sistema adesso la macchina nuova non avrebbe avuto certo problemi però nel giro di cinque anni il cliente va sempre la stessa pressione che viene generata dalla pompa dei freni e che andrà a ripartirsi sui quattro pistoncini delle pinze quindi in questo in questo modo tutto il discorso dell'impianto frenante è stato diciamo upgradato è stato migliorato nel suo insieme non è stato trascurato assolutamente nulla quindi questo per quanto riguarda appunto il discorso freni e cerchi poi alle altre due cose che abbiamo fatto dato che la macchina appunto in garanzia tutte queste cose sono comunque assolutamente omologate perché come dicevamo è possibile da un punto di vista diciamo legale chiamiamo così sostituire dischi e pastiglie l'importante che siano dello stesso diametro di quelli montati di serie questo è una un'altra delle motivazioni per le quali ben detto al cliente se tu metti un impianto frenante maggiorato esci dalla dalla fischi di omologazione e quindi sei in un campo diverso rispetto a quello nel quale sei adesso i cerchi ovviamente sono quelli riportati sul libretto quindi anche in questo caso nessuno può contestarmi nulla il discorso dello scarico abbiamo visto è omologato per cui anche in quel caso non non gli viene contestato niente la parte motore essendo la macchina in garanzia abbiamo ovviamente optato sempre per il solito discorso della centralina esterna riprogrammabile che è la seletron in modo tale che il cliente prima di andare in assistenza sgancia la centralina e non ha problemi a livello di garanzia quindi per quanto riguarda la parte motore abbiamo montato la centralina seletron abbiamo calcolato più o meno un incremento intorno ai 28 30 cavalli con 45 toni di coppia in più e il pedal booster che serve appunto per andare ad accorciare la risposta sul dell'acceleratore quindi per il momento questo è il pacchetto che riguarda i lavori che abbiamo svolto già che ci siamo di elenchiamo anche per la parte estetica che c'è questo cliente c'è già arrivati in officina ovviamente adesso siamo alla vigilia quasi la vigilia natale quindi non ce la facciamo a montare anche quello per cui abbiamo già fissato un appuntamento per gennaio dove sostanzialmente andremo a dipingere tutti quelli che sono le plastiche che adesso sono in nero opaco tanto per vedere qua ci sono gli archi di passaruota il sulla macchina un po sporca si vede magari poco però comunque la parte sotto del del longherone la diciamo il labbro diciamo anteriore e la parte posta quindi tutto quello che adesso in nero opaco il cliente ci ha chiesto di verniciarlo in nero lucido come la carrozzeria e in più abbiamo già portato a casa il kit estetico della maxon design che è composto da diverse parti per cui andremo ad applicare una lama sotto a questa parte anteriore diciamo una lama non troppo pronunciata però diciamo una lama che già esce in nero lucido che va a diciamo ad attaccarsi a questa parte anteriore poi ci saranno le due sottominigonne che andranno applicate in questa parte quindi riprenderanno questo questo disegno e saranno leggermente più basse lo spoilerino sul tetto e la parte posteriore con i due cantonali che andranno diciamo a chiudere il giro posteriore dove c'è il dam posteriore a memoria mi sembra di non aver dimenticato niente quindi il lavoro che andremo a completare sarà un lavoro prettamente di carrozzeria in sostanza e l'ultima parte che ci ha chiesto è quello di mettere visto che abbiamo fatto la parte scarico la parte motore manca la parte aspirazione dove andremo a montare il kit di aspirazione specifico della eventuri che abbiamo già fatto vedere diverse volte su macchine diverse l'ultima che mi ricordo è la l'audi rs3 tanto per intenderci però più o meno il concetto è sempre quello c'è un filtro aspirazione diretti in carbonio con una presa aria dinamica e il condotto sempre in carbonio che si va a collegare con il condotto di aspirazione quel collettore di aspirazione quindi questo è l'ultimo dei lavori che più o meno abbiamo pianificato io direi che quando andremo a finire soprattutto la parte di carrozzeria perché ci sono diverse parti che andranno cambiate quindi l'estetica cambierà ulteriormente rispetto a quello che adesso io direi di fare una puntata a gennaio dove faremo vedere la macchina finita al cento per cento per il momento è tutto per qualunque tipo di informazione mi potete sempre contattare in sede e vi chiediamo di cliccare sulla campanella ma soprattutto di iscrivervi al canale perché ci aiuta a farlo crescere e in modo tale da rimanere anche voi sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo primamente è tutto un saluto